Cerimonia di premiazione per il concorso Madre Terra al Circolo Nautico di Torre del Greco. Il progetto, organizzato dall'Associazione Exaluni in condivisione con il Liceo Classico Linguistico Gaetano De Bottis, è stato sponsorizzato dalla Società di Compravendita di Prodotti Petroliferi Risi Award di Valeria Sessa ed è stato patrocinato dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco. I ragazzi hanno evidenziato soprattutto la loro grande capacità di trasferire qualcosa di così importante come l'amore per il mare, l'amore per la terra, l'amore per le cose su di una tela. Per un concorso come questo ci siamo avvalsi però anche di personale per così dire esperto. La dottoressa Marisa Santogliani, Viviana Di Matteo che è una ricercatrice e poi molto interessanti sono state anche tutte le attività virtuali forniteci proprio dal porto di Torre del Greco, dalla Capitaneria. Speriamo che la cosa si possa ripetere anche negli anni a venire. Penso che sia l'unico concorso fatto di pittura al Liceo De Bottis e considerando che i ragazzi hanno partecipato con molto entusiasmo e abbiamo quadri che hanno ispirato proprio i loro sentimenti, le loro emozioni. È stato come dar voce ai loro sentimenti. L'evento si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri nella suggestiva cornice dell'area portuale cittadina ed ha visto la partecipazione dei 28 ragazzi del Liceo De Bottis cimentatesi di già lo scorso 5 giugno nella realizzazione di tele artistiche sui goal dell'agenda 2030 inerenti l'ambiente. Premiati tutti i partecipanti con diversa gradualità in riferimento al merito e sulla base di appositi parametri fissati dalla commissione giudicatrice. Le medesime tele, già fardata da oggi, saranno allocate ed esposte in forma permanente presso i locali della Capitaneria, siglando così l'avvio di una collaborazione istituzionale tra lo storico liceo di via generale Carlo Alberto dalla Chiesa e l'autorità portuale locale senza precedenti. Quello di oggi è veramente una dimostrazione concreta che i ragazzi stimolati in modo corretto e coerente rispondono in maniera eccellente egregia. È stato un coinvolgimento a catena, se possiamo usare questo termine, forse anche un po' marinarisco. Parlando con la comandante Ida Montanaro è venuta fuori l'idea di collaborare con loro e chiaramente questo tipo di collaborazione ha avuto la ricaduta tanto sperata sul territorio perché il fatto che questi elaborati grafici, queste pitture, questi bellissimi quadri rimarranno in mostra permanente presso il comando della Capitaneria di Torre del Greco, è il risultato concreto e tangibile di un obiettivo raggiunto. Si, si confermo, li abbiamo già esposti per un mese, sono stati votati dall'utenza, quindi abbiamo avuto una giuria popolare che ha votato i quadri. Siamo molto contenti di aver sponsorizzato questa serata qui al Circolo. Eppure sembra così singolare l'accostamento della Capitaneria di Porto al mondo della scuola, come si coniugano le due realtà? Noi siamo molto legati a tutte le tipologie di scuole, al di là di questo progetto che abbiamo fatto quest'anno. Noi lavoriamo anche con l'Istituto Nautico per l'alternanza scuola-lavoro, i ragazzi vengono a lavorare con noi, con noi fanno le visite a bordo delle navi e poi facciamo conferenze continue in tutte le tipologie di scuole a tutti i livelli. Grazie a tutti.